Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Allora, tutti avrete sentito parlare del mitico frappuccino ispirato agli unicorni di Starbucks e io non potevo fare a meno di notare questi splendidi colori che ha questo frappuccino quindi ho deciso oggi di metterli nei miei capelli ebbene sì, oggi ho creato queste ciocche colorate nei capelli che sono assolutamente DIY si fanno in 5 minuti e si lavano via con uno shampoo, ci tengo a specificare e con cosa le ho create? Con dei semplicissimi, comunissimi gessetti colorati che costano pochissimo si trovano ovunque, avrete bisogno soltanto dei gessetti colorati e di un po' d'acqua questo è quanto, io vi lascio il tutorial e vi faccio vedere come ho fatto a realizzare questi capelli così colorati ovviamente potete decidere voi se fare soltanto una ciocca, io ne ho fatte 3 o 4 per lato ma potete decidere se fare tutti i vostri capelli, se colorare tutti i capelli oppure solo una ciocca oppure un paio insomma, come preferite ma io poi ho utilizzato questi colori per ispirarmi al frappuccino di Starbucks ma potete scegliere qualsiasi colore naturalmente che sia a disposizione nella vostra collezione di gessetti colorati spero vi piaccia questo video, come al solito fatemi sapere per qualsiasi cosa nei commenti ci tengo sempre sempre a sottolineare che io li leggo sempre tutti e cerco anche di rispondere a tutte le domande quindi, yes, e quindi mi mando un bacio e alla prossima, ciao iniziamo, sto già indossando i guanti e vado a prelevare una ciocca si può fare naturalmente a ciocca oppure su tutto, su tutti i capelli e vado a bagnarla con dell'acqua prendo il mio gessetto colorato, questo è rosa e vado a colorare i capelli è molto importante fare sempre un movimento verso il basso perché se andiamo a farlo verso l'alto roviniamo i capelli quindi continuo su tutta la lunghezza in modo delicato fino a quando, vedete già si sta colorando molto bene fino a quando non raggiungo il livello di colore desiderato diciamo così a quando, vedete già ok, abbiamo colorato due ciocca e siccome il trappuccino di starbucks ha anche molto viola andiamo ad usare anche quello viola purtroppo mi si stanno lisciando tutti perché avevo la piega ma poi le asciugeremo i colori che sto usando io sono colori pastello quindi se utilizzate dei gessetti colorati che sono più forti ovviamente il colore sarà più forte anche sui capelli ma io volevo un effetto pastello quindi poi sta a voi insomma, dipende dai gusti ora i capelli sono naturalmente bagnati ma... è stato un altro gessetto i capelli sono bagnati ma poi li asciugeremo alla fine quindi se volete fare onde nei capelli o se volete usare la piastra qualsiasi cosa fatelo dopo averli colorati altrimenti la piega non durerà io avevo fatto i riccioli prima e non avevo pensato che poi in realtà bagnando li si sarebbero subito appiettiti ora siccome sono ancora bagnati vado ad asciugarli con il phon ok, ho asciugato i capelli questo è il risultato finale mi piace perché è pastello quindi è un colore molto... insomma, non troppo forte naturalmente devo rifare la piega ma mi piace come esperimento insomma, direi che è una cosa carina poi non macchia particolarmente le mani come magari gli ombretti quindi secondo me l'esperimento è riuscito anche se appunto ho fatto solo qualche ciocca ma voi potete fare tutti i capelli o solo una ciocca insomma, quello che preferite quindi questo è tutto spero vi piaccia questo video un bacio e alla prossima ciao! 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 ciao!